Finite le vacanze, è giunto il tanto atteso momento di fare sul serio. Riprendono le sfide che valgono punti pesanti in chiave classifica e il Cesena è impegnato in casa della Vispesaro nella giornata numero 21. Forti di oltre 600 tifosi al seguito, i bianconeri di Francesco Modesto non avranno a disposizione i soli Ricci e Brunetti ancora in infermeria. Il vendicare mi sembra un po' eccessivo, però penso che ci sia servito pure di insegnamento quel tipo di partita che abbiamo fatto per gli errori commessi dopo una partita che secondo me è fatta anche bene. Sono passati già più di quattro mesi, adesso lo stop di vacanze, al rientro ho trovato una squadra determinata sul lavoro dove le conoscenze comunque sono aumentate tra di loro. Sono fiducioso per il lavoro che hanno fatto e durante la settimana l'ho visti molto bene tutti i ragazzi e quindi siamo pronti a fare una partita fatta bene. È normale che l'incognita ci sia sempre perché comunque dopo un mese che non giochi devi attivare subito il cervello.